Al centro il colpo di testa, il 2 a 0 Lazio, giro immobile, al minuto numero 54, il 2 a 0 Lazio, il 2 a 0 Lazio, il cross al centro, il colpo di testa e il gol. Rimasto pietrificato Buffon al centro della porta, il 2 a 0 per la Lazio, Juve che rimane a guardare sul cross dalla destra, inquadrato Gigi Buffon. Al 54esimo minuto il raddoppio della Lazio, Luis Alberto va a staccare immobile, la mette sul secondo palo.